Tanti turisti, tanti pendolari e ancora troppi casi di borseggi sui mezzi di trasporto pubblico di Napoli. Questa mattina, intanto, è stato fatto un piccolo passo in avanti in merito con i carabinieri della stazione Napoli-Stella e gli agenti della Polfer che hanno arrestato due persone. Si tratta di Francesco Ziccardi e di Enzo De Ponte, rispettivamente di 55 e 39 anni, entrambi già noti alle forze dell'Urdine. I due sono stati ritenuti gravemente indiziati di furto e rapina commessi all'interno, nelle immediate adecenze, della stazione di piazza Cavour della metro Linea 2 e lungo altre tratte dei mezzi di trasporto pubblico. I militari dell'armada i carabinieri e gli agenti della Polfer, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno documentato e analizzato accuratamente le immagini delle diverse azioni criminali messe in atto e riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio. Principali obiettivi delle rapine e dei furti, gli anziani e i tantissimi turisti che arrivano in piazza Cavour per visitare il centro città. Molta della refurtiva recuperata dagli agenti è stata reconsegnata ai legittimi proprietari, mentre Ziccardi e De Ponte sono stati condotti nel carcere di Poggio Reale.